Capitolo 53 Era il compleanno di Ashley e Melania aveva preparato per quella sera un piccolo ricevimento che sarebbe stato una sorpresa per lui. Chiunque lo sapeva, eccettuato Ashley. Perfino i piccoli Wade e Bo, i quali avevano giurato di mantenere il segreto ed erano straordinariamente orgogliosi della fiducia che era stata loro dimostrata. Tutta la buona società di Atlanta era stata invitata e aveva promesso di intervenire. Il generale Gordon, con la sua famiglia, aveva graziosamente accettato l'invito. Alexander Stephens aveva promesso di venire se la sua incerta salute glielo avesse permesso e si aspettava perfino Bob Toomes, l'impetuoso oratore della Confederazione. Per tutta la mattinata Melania, insieme con Rossella, Lydia e Zia Pitti, non aveva fatto che correre per la piccola casa, impartendo ordini ai negri che rimettevano alle finestre le tendine lavate e stirate, lucidavano l'argenteria, lavavano i pavimenti e preparavano i rinfreschi. Rossella non aveva mai visto Melania così eccitata. «Come si farà ad appendere le lanterne nel cortile senza che Mr. Wilkes le veda quando viene a casa?» chiese Archie in tono burbero. Era stato tutta la mattina ad osservare i preparativi, interessato ma senza volerlo ammettere. Non si era mai trovato tra le quinte di un grande ricevimento. Gli sembravano buffe le donne che correvano per la casa come se ci fosse un incendio, ma nulla al mondo avrebbe potuto fargli abbandonare quello spettacolo. Le lanterne di carta colorata, dipinte dalla signora Helsing e da Fanny, lo avevano particolarmente incuriosito, perché non ne aveva mai viste prima d'allora. Melania le aveva nascoste in cantina e lui aveva avuto modo di esaminarle. «Dio mio, non ci avevo pensato!» esclamò Melania. «Che fortuna che me lo abbiate detto, Archie! Come fare? Bisogna appenderle agli alberi e fra i cespugli e accendere le candeline perché tutto sia illuminato quando arrivano gli invitati. Rossella, potresti mandare Porc a fare questo servizio mentre noi ceniamo?» «Voi avete molto giudizio, Mrs. Wilkes, ma vi agitate facilmente», disse Archie. «Quanto a quello stupido negro, meglio non fargli maneggiare quegli arnesi. Darebbe fuoco a tutto. Sono molto carini», concesse. «Li sistemerò io mentre voi e Mr. Wilkes mangiate». «Come siete gentili, Archie!» E Melania puntò i suoi occhi infantili pieni di gratitudine sul mutilato. «Non so che cosa farei senza di voi. Non sarà meglio che intanto mettiate dentro le candeline, così le troverete pronte!» «Sì, forse!» Amise Archie con poco garbo e si avviò zoppicando per la scala che conduceva in cantina. «Così bisogna fare!» Esclamò Melania, ridendo quando Archie fu scomparso. «Volevo proprio che lo facesse lui, questo lavoro, ma se glielo avessi chiesto non lo avrebbe fatto. E ce lo siamo anche levato dai piedi per un po' di tempo. I negri hanno tanta paura di lui che non sono capaci di fare niente quando se lo sentono alle spalle. A me non piacerebbe avere in casa quel vecchio furfante!» Fece Rossella sgarbatamente. Detestava Archie, come questi detestava lei, ed era raro che scambiassero una parola. La casa di Melania era la sola in cui lui rimaneva anche quando Rossella era presente, e la guardava sempre sospettoso e con freddo disprezzo. «Ti procurerà qualche noia, ricordati quello che ti dico!» «Ma che è? Basta saperlo prendere!» «Ed è così affezionato ad Ashley e a Bo che io mi sento assolutamente tranquilla sotto la sua protezione. Vorrei dire che è affezionato a te, Melania!» Interloqui Lydia con un lieve sorriso, guardando affettuosamente sua cognata. «Credo che tu sia la prima persona che quel vecchio bricone ha amato dopo… dopo sua moglie, e probabilmente sarebbe contento se qualcuno ti insultasse, perché così potrebbe ucciderlo!» «Come corri, Lydia!» E Melania arrossì. «Sai benissimo che mi ritiene una perfetta uca!» «Non vedo che importanza possa avere il modo di pensare di quel vecchio furfante!» Rimbeccò bruscamente Rossella. Il ricordo di come Archie l'aveva giudicata a proposito dei forzati la irritava sempre. «Ma ora me ne devo andare! Vado a pranzo, e poi devo passare al negozio per pagare i commessi, e al deposito per pagare i carrettieri e a Gelsing!» «Vai al deposito!» chiese Melania. «Ashley deve andare a parlare con Hug! Mi fai il favore di trattenerlo fino alle cinque? Se torna a casa prima ci sorprenderà certamente a terminare una torta o qualche altra cosa, e allora la sorpresa andrà a monte!» Rossella rise. Il suo buon umore era tornato. «Va bene, cercherò di trattenerlo!» Mentre lei parlava, i palli di occhi senza ciglia di Lydia la fissavano scrutandola. «Mi guarda sempre in un modo tanto curioso quando parlo di Ashley!» pensò Rossella. «Trattienilo più che puoi dopo le cinque!» riprese Melania. «Poi verrà Lydia con la carrozza a prenderlo. Vieni presto stasera, Rossella! Non voglio che tu perda un minuto del ricevimento!» Nel tornare verso casa, Rossella pensò malinconicamente. «Non vuole che io perda un minuto del ricevimento!» E allora perché non mi ha chiesto di aiutarla ad accogliere gli invitati come Lydia e Zia Pitti? Di solito a Rossella non importava nulla dei ricevimenti di Melania, ma questa era la festa più numerosa che Melania avesse mai organizzato, e per di più era il compleanno di Ashley. Sarebbe stata per lei una gioia trovarsi accanto a lui a ricevere gli ospiti, ma sapeva benissimo perché non era stata invitata. E se non lo avesse saputo, il commento di Rhett era stato abbastanza schietto. «Una rinnegata a ricevere tutti gli eminenti ex confederati e democratici che interverranno? Sei troppo ingenua? E pensa che, se non fosse per la bontà di Melania, tu non saresti invitata affatto!» Rossella si vestì più accuratamente del solito quel pomeriggio, indossando il nuovo abito di taffetta cangiante verde scuro, che sembrava viola secondo i riflessi, e il nuovo cappello verde chiaro guarnito di piume. Se soltanto Rhett le avesse permesso di tagliarsi la frangia e di arricciarla sulla fronte, il cappellino le sarebbe stato molto meglio. Ma lui aveva dichiarato che le avrebbe rasato la testa se si fosse tagliata la frangia, e in quei giorni si comportava in modo tale che forse lo avrebbe fatto davvero. Era un bel pomeriggio di sole, non troppo caldo. Il venticello tiepido, che frusciava tra gli alberi, faceva ondeggiare le piume del cappello di Rossella, che si sentiva il cuore pieno di gioia, come sempre, quando doveva vedere Ashley. Forse, se si fosse sbrigata a pagare i carrettieri e Doug, questi se ne sarebbero andati, lasciandola sola con Ashley nello studio che sorgeva al centro del deposito. Le occasioni di vedere Ashley a quattro occhi erano poco frequenti. Giunta al negozio pagò Willie e gli altri impiegati, senza neanche chiedere il quotidiano resoconto degli affari. Era sabato, la giornata più laboriosa della settimana, perché tutti i coltivatori si recavano in città per fare acquisti. Nel tratto fra il negozio e il magazzino si fermò parecchie volte a parlare con le signore dei Carpet Buggers in splendide vetture, non così belle come la sua, però. E con parecchi uomini che attraversavano la strada polverosa per venirla a salutare. A causa di questi indugi arrivò al deposito più tardi di quanto sperava e trovò Hug e i carrettieri che la tendevano seduti su una bassa catasta di legname. «C'è Ashley?» «Sì, in ufficio», rispose Hug. «Sta cercando di... insomma, sta esaminando i conti». «Oggi non occorre che se ne preoccupi». E abbassando la voce soggiunse. «Mellie mi ha mandato qui per trattenerlo, in modo che lei possa terminare di preparare per il ricevimento». Hug sorrise, poiché anche lui era al corrente del complotto. Rossella pagò lui e i carrettieri e lasciandoli bruscamente andò verso l'ufficio, mostrando che non desiderava essere accompagnata. Ashley le andò incontro sulla soglia e rimase nel sole pomeridiano con i capelli dorati e sulle labbra un sorriso che era quasi una smoffia. «Come mai, Rossella, siete in città a quest'ora? Perché non siete a casa mia ad aiutare Mellie nei preparativi per il ricevimento di stasera?» «Oh, Ashley!» esclamò lei indignata. «Ma voi non dovevate saperne nulla! Mellie sarà molto delusa se voi non sarete sorpreso!» «Ma io sarò l'uomo più sorpreso di Atlanta!» ribatte Ashley con gli occhi ridenti. «E chi ha avuto la cattiva idea di informarvi?» «Praticamente tutti gli uomini che sono invitati da Melania. Il primo è stato il generale Gordon. Mi ha raccontato che sa per esperienza che, quando le donne preparano sorprese di questo genere, scelgono di solito le serate in cui gli uomini hanno deciso di pulire tutte le armi che sono in casa. Poi sono stato avvertito dal nonno Merriweather. Mi ha raccontato che una volta sua nuora organizzò una festa per lui senza dirglielo, e fu lei la più sorpresa di tutti, perché il nonno aveva pensato bene di curare i suoi reumatismi con un'abbondante razione di whisky, ed era troppo ubriaco per partecipare al ricevimento. Insomma, tutti gli uomini per i quali è stato dato un ricevimento a sorpresa mi hanno voluto avvertire. «Che infamia!» esclamò Rossella, senza riuscire a trattenere un sorriso. Quando lui sorrideva in quel modo, le ricordava il vecchio Ashley delle dodici querce. Ma sorrideva così di rado. L'aria era così dolce, il sole così tenue, il viso di Ashley così allegro, la conversazione così spontanea che il suo cuore batteva forte per la felicità. Le si gonfiò nel petto fino a farle male. A un tratto si sentì come se avesse sedici anni, un po' ansimante ed eccitata. Provò un folle impulso di togliersi il cappello e gettarlo in aria gridando «urrà!». Ma pensò che Ashley sarebbe stato molto stupito e si mise a ridere, e rise fino alle lacrime. Anche Ashley rise, gettando indietro la testa, credendo che l'allegria di lei provenisse dall'amichevole tradimento degli uomini che avevano rivelato il segreto di Mellie. «Accomodatevi, Rossella, sto riguardando i conti». Lei entrò nella piccola stanza piena di sole e sedette sulla sedia davanti alla scrivania con il piano scorrevole. Ashley la seguì e sedette sull'angolo del tavolo lasciando ciondolare le gambe. «Oh, lasciamo perdere i conti oggi! Non voglio seccature! Quando porto un cappello nuovo mi pare che tutte le cifre mi sfuggano dalla testa!». «E quando il cappello è così carino, immagino che le cifre sfuggano di gran corsa! Diventate ogni giorno più bella, Rossella!». Scivolò giù dal tavolo, e ridendo, le prese le mani, e allargò le braccia per esaminare il vestito. «Come siete graziosa! Credo che non invecchierete mai!». Al suo contatto lei si rese conto di aver sperato proprio quello, pur senza averne coscienza. Durante quel pomeriggio, così felice, lei aveva anelato al calore delle sue mani, alla tenerezza dei suoi occhi, ad una parola affettuosa detta da lui. Questa era la prima volta che si trovavano veramente soli, dal giorno nel frutteto. La prima volta che le loro mani si incontravano in un gesto non soltanto formale. E durante quei lunghi mesi, lei aveva desiderato quel contatto. Ma ora... Strano che il tocco delle sue mani non la eccitasse. Una volta la sola vicinanza l'avrebbe fatta tremare. Ora provava solo un senso di cordialità e di contentezza. Nessuna febbre si trasmetteva dalle mani di lui alle sue, e il cuore non accelerava i suoi battiti. Questo la sconcertava molto. Eppure era sempre il suo Ashley, che lei amava più della vita. E allora perché? Ma respinse quel pensiero. Le bastava essere con lui, e che lui tenesse le sue mani sorridendo cordialmente. Le sembrava un miracolo se pensava a tutte le cose inespresse che c'erano fra loro. Gli occhi di lui la fissarono chiari e brillanti, sorridenti come un tempo, come se fra loro due non ci fosse mai stato altro che felicità. Pareva che nessuna barriera li separasse. Rossella rise. Oh, Ashley, divento vecchia e decrepita. No, Rossella, anche a 60 anni sarete la stessa. Vi ricorderò sempre come eravate nel giorno dell'ultimo banchetto, seduta sotto una quercia, con una dozzina di giovanotti attorno a voi. Potrei anche dirvi come eravate vestita. Un abito bianco stampato a fiori verde scuro, e uno scialle di pizzo bianco sulle spalle. Portavate scarpine verdi con allacciature nere, e un enorme cappello di paglia di Firenze, con lunghi nastri verdi pendenti sulle spalle. Rammento quell'abito, perché quando ero in prigione e sentivo che le mie condizioni peggioravano, cercavo di raccogliere tutti i miei ricordi e sfogliarli come delle immagini, rivedendo ogni particolare. Si interruppe, e il suo volto si oscurò. Lasciò cadere dolcemente le mani e rimase in attesa di altre parole. Abbiamo fatto tutti e due molta strada da quel giorno. Non è vero, Rossella? Abbiamo percorso sentieri che non credevamo di dover percorrere. Sedette nuovamente sul tavolo e la guardò. Sul suo volto apparve ancora una volta un piccolo sorriso. Ma non era il sorriso che l'aveva resa così felice pochi minuti prima. Era un sorriso pallido e triste. Sì, siete arrivata a salvarmi. A volte mi chiedo che cosa sarebbe stato di me senza il vostro aiuto. Rossella si affrettò a difenderlo contro se stesso con maggiore prontezza, in quanto le tornarono in mente le parole dirette su quell'argomento. Ma io non ho fatto nulla per voi, Ashley. Vi sareste sistemato ugualmente senza di me. Un giorno o l'altro sareste diventato ricco, come senz'altro state per diventare. No, Rossella. Il germe della grandezza non è mai stato in me. Credo che, se non ci foste stata voi, io sarei stato annientato, come la povera Katina Calvert e tante altre persone che una volta avevano grandi nomi. Non parlate così, Ashley. Mi sembrate triste. No, non sono triste. Non più. Una volta... Una volta lo ero. Adesso sono soltanto... Si interruppe e improvvisamente Rossella comprese ciò che stava pensando. Per la prima volta si rese conto di ciò che Ashley meditava quando i suoi occhi guardavano lontani, assenti, chiari come cristallo. Finché la passione le aveva colmato il cuore, lo spirito di lui le era rimasto precluso. Ora, nella tranquilla cordialità che c'era tra loro, Rossella cominciava a comprenderlo. Ashley non era più triste. Era stato triste dopo la resa, triste quando lei lo aveva pregato di andare ad Atlanta. Adesso era soltanto rassegnato. Non voglio sentirvi parlare così, Ashley, esclamò con vehemenza. Parlate come Rhett. Anche lui non fa che ripetere cose di questo genere e parla di ciò che chiama la sopravvivenza non so di che e mi infastidisce tanto che mi metterei a urlare. Ashley sorrise. Avete mai pensato che Rhett ed io siamo fondamentalmente simili? Oh no! Voi siete fine, onesto, e lui... si interruppe confusa. Eppure lo siamo. Proveniamo da gente della stessa razza, siamo stati educati alla stessa maniera, abituati allo stesso genere di pensieri. Ma abbiamo preso vie diverse. Pensiamo ancora nello stesso modo, ma le nostre reazioni sono differenti. Per esempio, nessuno di noi credeva alla guerra, ma io mi sono arruolato per combattere e lui ne è rimasto fuori fino quasi alla fine. Tutti e due sapevamo che la guerra era un errore e che l'avremmo perduta, ma io ho voluto combattere in questa lotta inutile e lui no. A volte penso che aveva ragione lui, e allora... Ma quando smetterete di guardare i due lati di ogni questione? Il tono di Rossella non era impaziente come sarebbe stato in altri tempi. Non si arriva mai a nulla in questo modo? È vero, ma... Arrivare dove? Me lo sono chiesto molte volte. Io non ho mai desiderato giungere in nessun luogo. Ho solo desiderato essere me stesso. Arrivare dove? Era una domanda stupida. Rossella voleva denaro e sicurezza. Eppure... Il denaro lo aveva. E anche tanta sicurezza quanta era possibile averne in un mondo così incerto. Ma ora che ci pensava, questo non le bastava. Tutto ciò non l'aveva resa felice, benché l'avesse liberata dall'angoscia dell'indomani. Se avessi avuto questo, e anche te, pensò guardandolo, allora sarei giunta all'apice dei miei desideri. Ma non parlò, temendo di sciupare l'atmosfera che si era creata tra loro. Desiderate soltanto essere voi stesso? Rise compassionevole. Invece io ho sempre cercato di non essere me stessa. E quanto a ciò che voglio raggiungere, credo di esserci arrivata. Volevo essere ricca e tranquilla, e... Ma non avete mai pensato, Rossella, che a me non importa affatto di essere ricco? No, non aveva mai pensato che qualcuno potesse non desiderare la ricchezza. E allora che cosa desiderate? Ora non lo so. Una volta lo sapevo, ma l'ho quasi dimenticato. Più di tutto desidero essere lasciato solo, non essere tormentato da gente che non mi piace, trascinato a fare cose che non vorrei fare. Forse... desidero il ritorno dei vecchi tempi, e sono ossessionato dal loro ricordo e dal ricordo di un mondo finito. Il tono della sua voce richiamò alla memoria di Rossella i bei giorni di Tara, facendole dolere il cuore. Ma dopo quell'epoca era venuto il giorno in cui lei si era coricata triste e desolata sul terreno delle dodici querce e si era detta non voglio più guardarmi indietro e si era gettata alle spalle il passato. Preferisco i tempi attuali, disse, ma non lo guardò. Accade sempre qualcosa di eccitante oggi, di brillante, di divertente. I vecchi tempi erano noiosi. Oh, giornate serene e pigre, calmi crepuscoli in campagna, risate allegre e acute che provenivano dal quartiere dei negri. Vita piena di calore, piena del conforto di sapere che cosa porterà l'indomani. Come posso rinnegarvi? Preferisco l'epoca attuale, ripetè, ma la sua voce tremava. Lui scivolò giù dal tavolo, ridendo dolcemente, incredulo. Mettendole la mano sotto il mento, prese il viso di lei e lo girò verso il suo. Come mentite male, Rossella. Sì, la vita è brillante adesso, e questo è il male. I vecchi tempi non erano eccitanti, ma in essi c'erano un fascino, una bellezza, uno splendore tranquillo. Rossella abbassò gli occhi. Il tono della voce di lui, il contatto della sua mano, riaprivano dolcemente delle porte che lei aveva chiuso per sempre. Dietro quelle porte c'era la bellezza degli antichi giorni e lei sentì nascere in sé una struggente nostalgia. Ma qualunque fosse quella bellezza, bisognava lasciarla dov'era. Non si poteva procedere nel proprio cammino portando con sé un peso di ricordi dolorosi. Lui abbassò la mano che accarezzava il mento, prese una mano di Rossella, la trattenne fra le sue. Vi ricordate? Cominciò. E nello spirito di lei un campanello a monitore suonò. Non guardare indietro, non guardare indietro. Ma lo ignorò, sentendosi trascinare in un gorgo di felicità. Finalmente lo comprendeva, finalmente i loro spiriti si incontravano. Era un momento troppo prezioso per perderlo, qualunque fosse il dolore che sarebbe potuto venire dopo. Ricordate? E sotto l'incanto della sua voce le pareti nude del piccolo ufficio scomparvero. Gli anni tornarono indietro e lei si trovò insieme con lui a cavalcare in un viale di campagna in primavera. Lui parlava stringendole lievemente la mano e nella sua voce c'era il fascino triste di vecchie canzoni in parte dimenticate. Rossella udiva l'allegro tintinnare dei finimenti mentre cavalcavano sotto gli alberi di corniolo nella proprietà dei Tarleton. Sentiva la propria risata spensierata, vedeva il sole che faceva brillare i capelli chiari di lui. osservava la grazia altera con la quale lui stava in sella. Nella sua voce c'era la musica dei violini e dei banjo al cui suono loro avevano danzato nella casa bianca che non esisteva più. C'era il lontano guaire dei cani da caccia nella palude sotto la luna fredda delle notti d'autunno e il profumo di zabaglione servito nelle grandi ciotole ornate di agrifoglio nelle sere di Natale fra i sorrisi dei volti neri e bianchi e vecchi amici tornavano in massa ridendo come se non fossero morti da tanti anni. Stuart e Brent con le loro lunghe gambe e i capelli rossi scherzosi e rumorosi Tony e Boyd impetuosi come puledri Joe Fontaine con i suoi occhi neri e ardenti e Cade e Rayford Calvert che si muovevano con languida grazia. C'era anche John Wilkes e Gerald rosso per il brandy bevuto e un sussurro e una fragranza che era Elena. Su tutto questo c'era un senso di sicurezza la certezza che domani avrebbe portato la stessa felicità goduta oggi. La voce di lui tacque per un istante si fissarono negli occhi e fra loro già quella gioventù piena di sole che avevano spensieratamente condiviso e che ora non c'era più. Ora so perché non può essere felice pensò Rossella con tristezza non lo avevo mai compreso prima come non avevo mai compreso perché neanch'io potevo essere felice. Ma Dio mio parliamo come parlano i vecchi disse fra sé con dolorosa sorpresa. I vecchi guardano indietro e noi non siamo vecchi ma sono accadute tante cose e tutto è così cambiato che sembra siano passati cinquant'anni però però non siamo vecchi guardò Ashley lui non era più giovane e brillante la sua testa era curva e lui guardava distrattamente la mano che teneva ancora fra le sue Rossella vide che i suoi occhi erano grigi di un grigio argente o come il chiaro di luna su un'acqua tranquilla la bellezza del pomeriggio di aprile era scomparsa anche dal suo cuore e la triste dolcezza dei ricordi era amara come il fiele non avrei dovuto acconsentire a guardare indietro pensò disperata avevo ragione nel dire che non volevo mai più voltarmi verso il passato fa troppo male e scava nel cuore profondamente finché non si può più fare altro che rimpiangere questo è il male di Ashley lui è incapace di guardare avanti non vede il presente a timore dell'avvenire e perciò rimpiange il passato non lo avevo mai compreso oh Ashley amor mio non dovete guardare indietro a che scopo non avrei dovuto lasciarmi tentare da voi a parlare dei vecchi giorni ecco che cosa succede quando si ricorda l'antica felicità si prova dolore crepa cuore e scontentezza si alzò in piedi lasciando ancora la mano in quella di lui doveva andare non poteva più rimanere e pensare al tempo perduto vedendo il suo volto stanco triste e malinconico abbiamo percorso molta strada da allora Ashley disse cercando di parlare con voce ferma avevamo dei besogni allora eh e poi con impeto aggiunse oh Ashley nulla è andato secondo i nostri desideri è sempre così la vita non è obbligata a darci quello che desideriamo dobbiamo prendere quello che ci capita e ringraziare che non sia peggio lei si sentì improvvisamente il cuore pieno di stanchezza e di pena al pensiero della lunga strada percorsa rivide la graziosa Rossella O'Hara che amava i corteggiatori e i bei vestiti e che aveva l'intenzione di diventare un giorno quando ne avesse avuto tempo una gran signora come Elena improvvisamente gli occhi le si riempirono di lacrime che le scorsero lentamente giù per le guance mentre lo guardava muta come una bimba stupita e addolorata lui non disse nulla ma la prese dolcemente fra le braccia le fece posare il capo sulla sua spalla e premette la sua guancia contro quella di lei Rossella si abbandonò e gli circondò il corpo con le braccia la dolcezza di quella stretta le fece asciugare le lacrime com'era bello abbandonarsi senza passione senza ansia come nelle braccia di un caro amico soltanto Ashley che condivideva i suoi ricordi e la sua giovinezza che conosceva i primi anni della sua vita e il suo presente poteva capire udì rumore di passi fuori ma non ci badò credendo che fossero i carrettieri che andavano a casa rimase un istante ad ascoltare il battito del cuore di Ashley improvvisamente lui si sciolse dall'abbraccio e lei fu sorpresa della sua violenza alzò gli occhi stupita ma lui non la guardava al di sopra della sua spalla Ashley fissava la porta Rossella si girò sulla soglia c'erano Lydia pallida con gli occhi chiari fiammeggianti e Archie malevolo come un pappagallo guercio dietro di loro c'era la signora Helsing non ricordo mai come fosse uscita dall'ufficio ma lo fece immediatamente in fretta per ordine di Ashley lasciandolo in cupa conversazione con Archie nella piccola stanza Lydia e la signora Helsing aspettavano fuori voltandole le spalle il terrore la spingeva a tornare a casa in gran fretta nella sua mente Archie con la barba da patriarca assumeva le proporzioni di un angelo vendicatore la casa era vuota e silenziosa nel crepuscolo d'aprile tutta la servitù si era recata a un funerale e i bambini erano andati a giocare a casa di Melania 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 Rossella rabbrividì al pensiero di lei mentre saliva le scale per recarsi in camera sua Melania avrebbe saputo dell'accaduto Lydia aveva detto che glielo avrebbe raccontato o sarebbe stata troppo lieta di parlare Lydia anche se facendolo avrebbe macchiato il nome di Ashley anche se avrebbe dato un dolore a Melania troppo felice se poteva far del male a Rossella e la signora Helsing avrebbe parlato pure lei anche se in realtà non aveva visto nulla perché era dietro a Lydia e a Darcy ma avrebbe parlato ugualmente all'ora di cena tutta la città sarebbe stata al corrente tutti anche i negri la mattina dopo lo avrebbero saputo al ricevimento di quella sera le donne si sarebbero riunite negli angoli a sussurrare con malizioso piacere Rossella Butler rovesciata dalla sua alta posizione e la storia si sarebbe diffusa ampliandosi non c'era modo di fermare i pettegolezzi non ci si sarebbe limitati al semplice fatto che Ashley la teneva fra le braccia mentre lei piangeva prima di notte la gente avrebbe detto che Rossella era stata colta in flagrante adulterio ed era stata una cosa così dolce così innocente Rossella pensò con ira se fossimo stati sorpresi quando è venuto in licenza e io l'ho baciato o nel frutteto di Tara quando l'ho pregato di fuggire con me o se fossimo stati sorpresi in uno dei momenti in cui eravamo realmente colpevoli ma ora ora che ero tra le sue braccia come un'amica nessuno ci avrebbe creduto lei non avrebbe avuto una sola amica a prendere le sue difese non una voce si sarebbe levata a dire non credo che abbia fatto qualcosa di male aveva offeso per troppo tempo i vecchi amici per trovare fra loro un difensore e i nuovi che sopportavano in silenzio le sue insolenze sarebbero stati ben felici di potersi vendicare tutti sarebbero stati disposti a credere il peggio sul suo conto si sarebbero solo dispiaciuti per il fatto che una persona per bene come Ashley Wilkes fosse immischiata in una faccenda così sudicia come sempre avrebbero dato tutta la colpa alla donna e in quel caso avrebbero avuto ragione era stata lei che era andata a gettarsi fra le sue braccia oh poteva sopportare gli sguardi ironici i sorrisetti nascosti i mormorini tutto ciò che la città avrebbe detto ma non Melania no non Melania non sapeva perché questo pensiero la torturasse tanto era troppo impaurita e abbattuta per cercare di comprendere ma scoppiò in lacrime pensando agli occhi di Melania nel momento in cui Lydia le avrebbe detto che aveva sorpreso Ashley che abbracciava Rossella e che cosa avrebbe fatto Melania avrebbe lasciato Ashley che altro avrebbe potuto fare per salvare la propria dignità e che cosa avrebbero fatto allora lei ed Ashley le lacrime le inondavano il volto mentre questi pensieri si agitavano freneticamente nel suo cervello Ashley morirà di vergogna e mi odierà perché l'ho trascinato in questo scandalo a un tratto le sue lacrime si asciugarono perché un terrore mortale le aveva invaso il cuore al ricordo di Rhett che cosa avrebbe fatto suo marito forse non avrebbe saputo nulla come era quel vecchio detto cinico il marito è sempre l'ultimo a sapere forse nessuno sarebbe andato a dirglielo bisognava avere un bel coraggio per raccontare una cosa simile a Rhett dato che lui aveva la reputazione di ammazzare prima e poi interrogare Dio Dio fate che nessuno abbia il coraggio di dirglielo ma rivide il volto di Archie sulla soglia dell'ufficio il suo occhio freddo chiaro senza rimorso pieno di odio per lei e per tutte le donne Archie non temeva né Dio né gli uomini e detestava le donne abbiette le aveva odiate tanto da ucciderne una e certo avrebbe parlato con Rhett malgrado tutto ciò che avrebbe potuto fare Ashley per dissuaderlo a meno che Ashley non lo uccidesse Archie avrebbe parlato con Rhett ritenendo che questo fosse il suo dovere di Cristiano Rossella si spogliò e si gettò sul letto nel suo cervello c'era un turbine che mulinava vorticosamente se almeno avesse potuto chiudersi a chiave e rimanere per sempre in quella stanza tranquilla senza vedere mai più nessuno forse Rhett non sarebbe venuto a sapere nulla quella sera lei avrebbe detto di avere mal di testa e di non poter perciò andare al ricevimento e l'indomani avrebbe certamente trovato il modo di difendersi non voglio pensarci adesso disse disperata nascondendo il volto fra i guanciali ci penserò più tardi quando potrò sopportare quest'idea udì rientrare la servitù al calare della sera e le sembrò che i preparativi della cena fossero molto silenziosi o forse era la sua coscienza colpevole mammi andò a bussare alla porta ma Rossella l'amandò via dicendole che non voleva cenare passò ancora del tempo e finalmente udirette che saliva le scale e passava davanti alla sua stanza senza fermarsi e mise un profondo respiro evidentemente non sapeva nulla e grazie a Dio continuava a rispettare la sua gelida preghiera di non mettere piede nella sua camera altrimenti se l'avesse vista in quel momento avrebbe letto sul suo volto che era accaduto qualcosa di grave bisognava soltanto che lei raccogliesse le sue forze per potergli dire che si sentiva troppo male per andare al ricevimento ma aveva ancora tempo per calmarsi da quel terribile momento le era sembrato che il tempo non esistesse più udirette che si muoveva nella sua camera e rivolgeva ogni tanto la parola a Porc non ebbe il coraggio di chiamare rimase sul letto tremante nell'oscurità dopo parecchio tempo lui bussò alla porta avanti disse Rossella cercando di dominare il tremito della sua voce sono invitato a entrare nel santuario chiese Rett aprendo l'uscio entro e richiusa sei pronta? era buio e Rossella non lo vedeva la voce le sembrò incolore mi dispiace ma ho l'emicrania strano che la sua voce fosse così naturale credo che non potrò venire vai tu Rett e scusami con Melania ci fu una lunga pausa quindi lui parlò con voce mordente sei una piccola strega vigliacca e pusillanime lui dunque sapeva Rossella riprese a tremare incapace di aprire bocca lo udì frugare nel buio accendere un fiammifero e la camera fu illuminata Rett si avvicinò al letto e la guardò era in abito da sera alzati la sua voce era sempre in colore andiamo al ricevimento sbrigati non posso Rett devi capire capisco Rett Archie ha osato Archie ha osato è un uomo coraggioso Archie avresti dovuto ucciderlo perché ha mentito non uccido le persone che dicono la verità ora non c'è tempo di discutere alzati lei si sollevò stringendosi attorno alle coperte e lo scrutò attentamente in viso era cupo e impassibile non voglio venire Rett non posso finché non sarà chiarito questo malinteso se non ti farai vedere stasera non potrai più mostrarti in giro in questa città finché vivi e se io posso sopportare di avere per moglie una sgualdrina non sopporto chi sia codarda verrai stasera anche se tutti da Alex Stephens in giù ti negheranno il saluto e la signora Wilkes ti metterà alla porta Rett lascia che ti spieghi non ti voglio ascoltare non c'è tempo vestiti è un malinteso Lydia Archie e la signora Helsing mi odiano Lydia mi odia al punto che è capace anche di dir male di suo fratello pur di farmi apparire in cattiva luce se mi lasci spiegare madre di dio pensò angosciata se lui mi dice spiegati cosa posso dirgli come spiegare avranno raccontato le loro invenzioni a tutti quanti non posso venire verrai dovessi trascinarti per il collo e spingerti a calci per la strada c'era una luce fredda nei suoi occhi quando la afferrò costringendola ad alzarsi raccolse il busto e glielo gettò mettilo te lo allaccerò io sono praticissimo no non chiamerò mammi ad aiutarti saresti capace di richiudere la porta rintanandoti qui dentro da quella vigliacca che sei non sono vile esclamò rossella punta sul vivo io oh risparmiami la solita storia sull'uccisione del soldato yankee e sull'arrivo dell'esercito di sherman sei vile se non per te stasera devi venire per amore di diletta vuoi rendere la tua posizione anche peggiore svelta mettiti il busto lei si tolse in fretta lo scialle e rimase rigida davanti a lui forse se rette l'avesse guardata e l'avesse vista così bella quell'espressione spaventosa sarebbe scomparsa dal suo volto era tanto tempo che non la vedeva in camicia da notte ma non la guardò era davanti all'armadio ed esaminava rapidamente i vestiti ne tirò fuori uno nuovo di seta verde giada era molto scollato davanti e la gonna era drappeggiata dietro su un enorme sellino su questo posava un gran ciuffo di vivide rose di velluto mettiti questo disse gettando l'abito sul letto e avvicinandosi a lei stasera niente colori smorti la tua bandiera deve sventolare all'albero maestro e mettiti molto belletto sono sicuro che la moglie del fariseo accusata di adulterio non era così pallida voltati afferrò le stringhe del busto e le tirò talmente da strapparle un gemito rossella era spaventata umiliata e confusa ti fa male eh fece una risatina e lei non lo vide in volto peccato che questo cordone non sia attorno al tuo collo tutte le stanze della casa di melania erano illuminate e la musica si sentiva fin dalla strada a mano a mano che rossella e red si avvicinavano all'ingresso giungeva il suono eccitante e piacevole delle voci degli invitati la casa era gremita di gente gli ospiti si amavano sulla veranda e molti erano seduti sui banchi alla luce fioca delle lampade sospese agli alberi dello spiazzo non posso entrare non posso pensò rossella seduta in carrozza stringendo convulsamente il fazzoletto appallottolato non posso non voglio salterò a terra e fuggirò ritornerò a tara perché il rete mi ha costretta a venire qui che farà la gente che farà melania non posso presentarmi davanti a lei voglio fuggire come se le avesse letto nel pensiero rete le strinse il braccio come in una morsa non ho mai saputo che un irlandese fosse vile dov'è il tuo coraggio tanto vantato ti prego rete torniamo a casa e ti spiegherò hai un'eternità per spiegarti e soltanto una sera per mostrarti come una martire nell'arena scendi cara e fammi vedere come i leoni ti divoreranno scendi rossella percorse il viale d'accesso il braccio a cui si appoggiava rigido come il granito le comunicava un certo coraggio si per dio li avrebbe affrontati che cos'erano se non un'orda di gatti malvagi urlanti e striscianti gelosi di lei gliel'avrebbe fatta vedere non le importava ciò che pensavano solo melania solo di melania le importava erano giunti sotto il porticato e red si inchinava a destra e a sinistra con il cappello in mano la sua voce era fredda e gentile la musica si interruppe quando essi entrarono a rossella sembrò che dalla moltitudine sorgesse un rumore come il rugito del mare che andò diminuendo fino a spegnersi completamente qualcuno avrebbe evitato di salutarla ebbene per giove che facessero pure alzò il mento e sorrise prima che si voltasse a parlare con coloro che erano più vicini qualcuno si fece largo fra gli invitati uno strano mormorio fece arrestare i battiti del suo cuore quindi vide che era melania la quale accorreva frettolosamente per andarle incontro a salutarla prima di tutti le sue piccole spalle erano spinte indietro a fronte alta si avvicinò a rossella e le passò un braccio attorno alla vita dicendole con la sua voce chiara che bel vestito tesoro vuoi farmi un favore lydia non è potuta venire stasera ad aiutarmi vuoi avere la bontà di ricevere gli invitati insieme con me di ricevere gli invitati